Vediamo una persona che sta tutto il giorno di fronte a uno schermo, allora dobbiamo chiederci è quello il futuro del lavoro, è quella la modernità? Secondo me non è modernità, quindi noi dobbiamo cercare dalla pandemia di trarre un insegnamento, l'insegnamento è quello per cui tante cose possiamo farle meglio. Siamo stati appunto costretti a prendere le distanze, a isolarci in casa e a lavorare da casa. Perché chiaramente il lavoro non è solamente la prestazione lavorativa, è la condivisione, lo stare insieme, prendere un caffè con il collega, lo scambiarsi delle esperienze, raccontarsi, ma c'è anche un distacco però, cioè chiudo la porta di casa. Oggi i manager non sanno gestire lo smart working, chiamano a qualsiasi ora, scrivono i whatsapp il sabato, la domenica, la notte e questo è un lavoro non pagato. Grazie. Grazie.